Ancora strascichi di polemiche sulla partecipazione del Molise all'Expo italiana organizzata dal NIAF a Washington. Il vicepresidente della giunta regionale Vincenzo Cotugno se la prende con il PD termolese che nei giorni scorsi aveva avuto da ridire sulla mancata presenza di imprese del basso Molise tra le 18 che sono volate in America per promuovere il territorio chiedendo anche una rendicontazione delle spese di viaggio sostenute. Sul primo aspetto Cotugno ha ricordato che la regione ha pubblicato un avviso pubblico a cui hanno risposto 30 imprese anche dal basso Molise. Alcune hanno rinunciato per loro impedimenti e solo 18 hanno confermato la partecipazione. Perché non abbiano aderito imprese del basso Molise non mi è dato sapere ma di certo nessuno le ha escluse ha spiegato Cotugno che ha parlato di falsa narrazione anche sui soldi spesi per l'iniziativa 133 mila euro. Questo evento non è stato finanziato con i soldi dei molisani, i fondi utilizzati sono quelli del patto per lo sviluppo destinati per legge all'internazionalizzazione e al marketing territoriale e di certo non potevano essere spesi per altre cose, ha precisato l'assessore. La questione ha tenuto banco anche sui social con quelle che Cotugno ha definito polemiche sterili, proprie di un Molise malinconico, incline al disprezzo, facile al dileggio e alla calugna che si contrappone a un Molise che produce, ha affermato Cotugno, che si rimbocca le maniche ogni giorno nel tentativo di fare impresa e creare vera occupazione. Cerchiamo una volta tanto di remare tutti nella stessa direzione, ha continuato l'esponente di giunta. Rimbocchiamoci tutti le maniche e ammettiamo che una speranza esiste, che sicuramente questa terra può ancora offrire opportunità serie e vantaggiose per quanti vogliano avviare un'impresa. A Washington hanno apprezzato, ha concluso Cotugno, speriamo che prima o poi anche qui da tutti prevalga l'orgoglio molisano.